Maglio Di Stefano, prego. Grazie, Presidente. Io faccio soltanto una precisazione. Al collega Di Sell, che continua a dire da una serata intera, non lo capisco, non lo capisco. C'è solo una cosa che dovete capire, e dovete capirla soprattutto per il rispetto che dovete ai vostri elettori, che con loro vi vedono andare alle elezioni costantemente per poi passare all'opposizione, che il PD, insieme a voi, perché siete entrati insieme al Parlamento, insieme agli altri partiti in quest'Aula, tranne il Movimento 5 Stelle, stanno prendendo per il culo il popolo italiano. Questo dovete capire. Magari un linguaggio più consono, per favore, onorevole Di Stefano.